Bruni bentornati in questo nuovo episodio della vanilla, siamo giunti se non sbaglio al diciassottesimo episodio, non mi ricordo se è 17 o 18, ma siamo in un nuovo episodio della vanilla. Grazie ragazzi del supporto nel video che ho fatto, appunto del silos, della stanza delle fornaci, non so neanche come chiamarla questa roba qua. Grazie mille raga perché è andato super bene a livello di commenti e mi piace. E vi chiedo una cosa, raggiungiamo anche per questo video 2000 mi piace, secondo me ce la possiamo fare. Ad ogni modo raga andiamo a leggere i commenti di oggi che come vi avevo chiesto l'ultima volta sono stati votati, quindi abbiamo dei commenti con tanti like. Il primo è quello di Civitz2904 che mi lascia un commento stupendo, grazie Civitz, poche importa che tu non abbia registrato, la costruzione è una bomba, davvero chapeau. Un bacione ragazzi, grazie mille, grazie mille, grazie mille di questo commento, sono contento perché alla fine i commenti erano riguardo a questo, sei il miglior costruzione d'Italia, è tornato finalmente, grazie raga, penso che comunque sia una build incredibile, ci abbiamo messo tanto, l'avete visto anche in live, ma sono davvero soddisfatto e penso che ci lavoreremo ancora un pochettino. Come ben notate ho fatto anche una strada per salire, nulla di che raga, ci ho messo un quarto d'ora a far sta roba, però mi sembrava carino anche l'effetto con le shaders per quanto riguarda questo legno qua. Ma andiamo oltre col prossimo commento che è di Youtubers Edits che è in tutti i video, grazie mille, ti mando un abbraccione. Le shaders sono fantastiche, rimangono stupendamente bene, non smetto mai di aspettare un nuovo episodio della vanilla, continua così perché questa vanilla sta rimanendo fantastica, la porta mi piace così e questo ingranaggio è bellissimo, grazie mille, ti mando un bacione anche per questo. Ultimo commento ma non mi per importanza è quello di Aoniki, ciao Aniki, anche lei ovunque raga, abbonata di io, abbonata di Twitch, ovunque, grazie mille, Aniki, un abbraccione. Ciao Marci, bellissimo video come sempre, l'istilo sta venendo benissimo e anche se conterrà le fornacce, solo per estetica consiglio di provare a mettere sul tetto un telescopio. Bellissima idea questa, perché mi ricorda molto un osservatorio e con questo stile ci starebbe bene, continua così che stai facendo una bellissima manina, grazie Aniki. Sai che quando l'ho letto ho detto, cioè ma perché non mi è venuto in mente prima? Potremmo fare raga una sorta di ingranaggio gigante sopra con una sorta di telescopio che sale e poi è in diagonale verso tipo dove c'è la luna. E secondo me è una figata veramente, veramente incredibile. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, ma oggi avete letto dal titolo, raga, dobbiamo andare a fare una speedrun all'interno di questa serie. Perché speedrun? Raga, ho bisogno di sbloccare l'end, mi servono l'elitra, mi serve fare la farm di enderman, mi servono un sacco di cose. E siccome ormai l'ender dragon è diventato un po'... non è useless, inutile, però insomma non è che sia sta grande cosa, ce la giochiamo diversamente e proviamo a giocarcelo come se fosse una vera e propria speedrun. Cosa vuol dire? Adesso andiamo nella fortezza, andiamo nel bastione, ci troviamo gli enderai e proviamo a ammazzare il drago con i letti, come ai vecchi tempi. Non so se ce la farò con cinque letti, ce ne prepariamo tipo quattordici e vediamo un po' cosa viene fuori. Speriamo veramente in bene. Andiamo nel nostro bellissimo portale, che è ancora da sistemare, però secondo me è tanta roba. Ed è la prima volta che andremo nel nether con le shaders, che a me non fa impazzire, però ha tanta roba anche questa roba qua. Vamos! Ok, ci siamo. Allora... Ma il mio ponte? Ma anche il ponte, raga. E il portale che c'era qua? Ehm... C'è un problema. C'è un grandissimo problema. C'è un enorme... Questo è un enorme problema, ragazzi. Questo è un grandissimissimo problema enorme. Perché non c'è la mia roba? Cioè, è come se si fosse risultato il nether. What? Non che abbiamo fatto chissà che cosa, però sta... Oh, raga, la 1.20 è piena di bug. Poco male, andiamo a prenderci le nostre blaze road e andiamo a trovare il bastione, perché dobbiamo assolutamente prendere anche le enderpearl. Io enderpearl ne ho solo 4, quindi eventualmente ce ne bastano... Direi... Anche 8 ce ne bastano, raga. La fortezza, mi ricordo, che non eravamo neanche andati, quindi non mi... Non mi turba tanto il fatto che si sia resettato. Però mi turba un po' perché comunque l'avevo già esplorato. Un po' mi dispiace come cosa. Eccola qua, ragazzi, la nostra fortezza. Mi sa che c'erano un po' tanti cattivoni qua che stanno venendo verso noi. Mi sembra un po' esagerata questa situazione o mi sbaglio? Beh, sembra un pochettino esagerata questa cosa, eh. Mettiamo un po' di torcine. Torce belle, torce brutte, torce brutte, torce belle. Sì, 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 sì. Ok, vabbè, a sto punto io entro. Perché sia mai che magari c'è una chest con un diamante. Guarda, pum, ferro e oro. Beh, ma io me li prendo volentieri questi, raga, sinceramente. Ah, belli! Buongiorno! Tanto questi qua non dovrebbero farmi troppo danno, quindi... Non mi ha dato into fire, ma... Sai che ti avevo perso, brodiz? Eh, però questo è troppo lontano. Mi tocca andarmene via, mi tocca andarmene via. Ok, certo, Marci, con qualità non me lo stai dicendo oggi? Allora, qua dovrebbero spawnare. Eccoli qua. Ok, una ce l'adatta. Ecco qua, into fire. Molto bene, ragazzi. Facciamo così, almeno ci riusciamo a chiudere. Ok, vai. Vai, e andiamo. Ma abbiamo un fire protection? Ah, abbiamo un fire protection! Ecco perché non ci fanno troppo danno, raga. Eh, non l'avevo mica capita io sta cosa, eh. Non mi viene capita io sta roba. Facciamo così. Facciamo così. E in teoria siamo anche direttamente qua di... Eh, vedi, non ci fa troppo danno. Vabbè, ci sta, raga. Ok? Sbouma! Sbouma! E sbemma! Solo... Abbiamo solo una blazeroth, davvero? Con così... Dove sei andato? Vieni qua. Ma porca mia... Cosa stai facendo, bro? Meno male che non l'ha droppata perché eravamo sopra la lava. Eccoli qua i campioni che stanno spawnando anche oggi! Guarda che arriva, Marci. Allora, uno, un hit e due hit. Un hit e due hit. E dai, e dai, siamo già a tre, raga. Porca miseria, stiamo andando veramente forti. Forti, forti, forti. Cinque. Sei. E sette! Dai, e possiamo andarcene subitissimo! Sette sono abbastanza! Ora dobbiamo trovare il bastione! Sinceramente non so neanche dove andare a cercare il bastione perché comunque non ho... Non mi ricordo se avevamo... Noi non l'avevamo trovato nella vanilla, se non sbaglio. Se non sbaglio non l'abbiamo trovato. Di conseguenza è a caso, raga. Cioè, qua è a caso. Decidiamo un quadrante. Dove stiamo andando? Stiamo andando a... Negativo, negativo. Allora, o c'è una fortezza, o chiaramente c'è un bastione. Quindi o ci va bene, o ci va male. No, bro, no, no, adesso no, 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 no. Lasciami in pace! Che devo trovare il bastione, devo trovare. Guarda, ti do pure una roba, voglio che tieni? Tutto per te. Dai, sca... Oh! Al primo colpo enderpearl, raga. Chiedo troppo. Un enderpearl al primo colpo. Vediamo se ce la dà. No, non me l'ha data. Però vuole morire lui, eh. Cosa mi ha dato? Vabbè, diciamo avere un nuggets mica male sono, eh. Oh, bastione! Non l'avevo visto, raga! Tanta roba! Buono! È anche un... Oddio. Com'è che si chiama, raga? Meshfugger nome. Il bridge dovrebbe essere. Esatto, dovrebbe essere un bridge questo qua. Allora, l'unica cosa che mi preoccupa sono proprio loro. Sono i nostri amici... Ma si è lanciato giù? Ma davvero? Comunque, dicevo, sono i nostri amici... No, 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 no. Mamma mia, raga, che rischio! Ma quanti brutti ci sono? Allora, aspetta un attimo, io a voi vi lascio questi. Così ve li scambiate, tranquilli. Ma sono tutti bruti? Tutti bruti sono! Ma che dici? No, aspetta, ammazziamoli. Ammazziamoli. Non potete buttarvi giù, tipo? Ok. Ok, un è andato. Ok, due sono andati. Ok, questo sta scambiando. Eh, ti lascio fare, campione? Sì, direi che possiamo lasciarlo fare. Allora, pensavo peggio. Pensavo peggio i nostri amici... Diciamo così. Pensavo peggio i nostri amici bruti. Allora, oddio, siamo in altissimo qua, effettivamente. Questo cosa mi ha scambiato? Fammi dare un check. Enderpearl. Godo. Due enderpearl. Eeeh, ma si vola. Crank Obsidian che ci serve per fare appunto la roba del letto. Ma sì, ma però io lascio solo a te la roba. Eh, daieh. E da... No, 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 troppo, troppo. Dove sei? Troppo, troppo, troppo. Non mi controllare che qua non ci sia nulla perché c'ho paura. Eh, l'ho vista sta Crank Obsidian. La Crank Obsidian l'ho vista. No, 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 non mi... Cosa l'ammazio? Bello. Eh. Aieh. Io però vorrei scendere per capire se c'è della nederite qua. È che se muoio, raga, perdo tutto. Non è come i video che abbiamo alla Keep Inventory, quindi... Dammi enderpearl. Dove è scappato? Ma ne ho tredici cassa, raga! Ma è cassa totale! Ma andiamocene via da sto posto! Olè, raga, stiamo per tornare io a Casia. Siamo per tornare io a Casia. Daieh. Ma tu cosa ci fai qua? Cosa ci fai qua? Niente, apri... Allora, è arrivato. Ha dato fastidio. E mo' se ne pure torna nel nero. Dai. Eh, se ne è andata. Eh, vabbè. E cosa devi dirgli a uno che fa così? Niente. Non gli puoi dire niente. Allora, con la lana che abbiamo dobbiamo farci letti. Facciamocene, direi, una decina, raga. Ci facciamo una decina di letti. Allora, facciamoci. Abbiamo detto... Magari due ce le lasciamo intanto libere, che ci possono servire. E facciamo dodici in the ride. Vediamo dove va. Ok, perfettamente da questa parte. Sto guardando anche dalla parte giusta. Perfetto. Quindi ora dobbiamo... Boh, raga, io i letti li faccio col tempo. Perché almeno mi prendo le pecore e tutto. Perché ho notato che non ho lana. Velo che faccio dalla lana? Non ho lana. Non ne ho. Zero. Vabbè, vamos. Che vi devo dire? Andiamo. Io sono senza... Ragazzi, sono brutalmente... Senza arco. Cioè, io voglio ammazzare il drago senza arco. Ok? Zero. Zero archi. Solo ed unicamente con i letti. Me ne crafto piuttosto, ragazzi. 56 mi porto un sacco di lana dietro. Ma io lo ammazzerò con i letti. Pecore, pecore, pecore. Voi ho visto, eh? Ando scappate. Ando scappate voi, eh? Ando scappate, belli. Io non mi ricordo più, raga. Come si fa con i letti, ve lo giuro. Ma quante ce ne sono? Ciao, pecore. Ma siete tantissime. Ma venite qua tutti. Ma io ho bisogno di tutta la vostra lana. Allora, me ne servono... Io direi un 30 pezzi. Direi 10 letti, almeno li facciamo. Ma anche di più, raga. Più lana abbiamo, meglio è. Più abbiamo possibilità, nel caso non ci ricordassimo come si fa. Quante ne abbiamo adesso? 16. Ti dirò. Con la piccolina non si può avere. Mi ricordo che c'era un aggiornamento che l'avano fatto come gag. Ma quante pecore ci sono? Sì. Belle. Grazie mille alla vostra lana. Non vi voglio uccidere. Tanto poi disponerete quando me ne vado. Però, insomma, mi dispiace. Quindi, rip. Ma se io l'ammazzo... Senza lana. Me la danno la lana? Eh no che non me la danno. È una cosa che mi... È un mito questo qua. Non lo sapevo, raga. Giuro che non lo sapevo. Va bene, va bene. Allora, il nostro occhio va sempre dritto. Qua abbiamo trovato un'altra caccia. C'è un'altra savana. Non male come cosa. Questa è interessante da sapere che abbiamo da questa parte. Perché ci potrebbe essere anche un villaggio in questa zona. Quindi magari dei letti ce li possiamo già avere fatti. Raga, purtroppo è sempre dritto. Aspetta, fammi riprovare che l'ho provato un po' di tempo indietro. No, è sempre dritto, raga, purtroppo. È sempre indietro. Vediamo se riesco a riprenderlo. S'è rotto! No! Non ci voleva questa. Però siamo in acqua, raga. Ciao, belli. Guardate che belli che siamo. Guarda, un po', un po'. Non si riesce a fare tipo metà e metà? No, non posso stare tipo metà dentro l'acqua. Ecco così, raga. Che spettacolo. Siete del sotto. E si vede anche... Mamma mia, raga. Questa è un'immagine di profilo. Un wallpaper. Siamo, siamo, siamo. Stiamo andando. Qua ci sono gli affogati. Ciao, belli. Sta tutto bene? No, un'altra giungla? Ma basta, raga. Ma quante giungle ci sono? Ma zio Pera. Ma ci sono una... Cioè, ci sono solo giungle in sto posto. Ma giuro, raga. Sono solo giungle. Che devo fare, raga? Solo giungle ci sono. Allora, crafting table... L'ho lasciato la crafting table in giro. Annaggia a me, raga. Annaggia a me, mannaggia. Senti, queste cose qua, qualcosa... Tipo questa spada con smite, via. Anche gli shroomlight, via. Se no, raga, abbiamo troppo inventario pieno. Allora, calma tutti. Blackstone, via. La... Questa qui ce la teniamo. Ci facciamo un'altra crafting table. Ma annaggia a me che me ne lascio in giro. E mi faccio subito il letto e dormo, raga. Chi se ne frega se dormiamo lontani dallo spawn. Oddio. No, mi... No, non posso dormire lontano dallo spawn, in realtà. No, non mi conviene, raga, dormire lontano dallo spawn. Allora, quanti ne abbiamo adesso qui? Allora, devo fare così. Allora, calma. Calma tutti. Karma tutti. Karma tutti e karma tutti. Facciamo così e vediamo quanti ne riusciamo a fare. Ne abbiamo due, quattro, sei, sette, otto, nove, dieci. E ne possiamo fare ancora un bel po'. Direi che comunque va bene. Direi che comunque va bene. Devo lasciare qualcosa ancora. Lascerei tranquillamente la gold armor horse, tanto non ci serve. E neanche la barca ci serve a sto punto. Dai, speriamo che bastino questi... Questi letti e che in 1.20 sia... Interessante... Non è vero. Non mi dire che è di nuovo sott'acqua. Devo andare a prendermi la barca. Dai, non sarà tanto lontano. Siamo a 1500 blocchi, raga. Bello. C'è un coso dei guardiani, va bene. Direi che ci possiamo lanciare la nostra perlina, raga. Sperando che sia in una situazione posit... No, ha cambiato direzione, raga. Ha cambiato direzione. Non mi dire che... No, si è rotto, raga. Cioè, è andato di qua, raga. Ma che dici, raga? È vicino al coso oceanico. Ma che dici? Ma siamo lontanissimi, raga. Qui non c'è niente, vero? L'api... Oh, io qua posso scendere. Magari lo vedo qua sotto, tipo a caso. No, non ha funzionato questa cosa. Direi che dobbiamo sfondare roba. Spacca, spacca, marci. Spacca, spacca, spacca. No, qua si muore. Spacca, spacca, spacca. Spacca. È qua. Cioè, qua scende, raga. Guardate. Vado. Vedete che è sceso? È sceso. È tipo qua sotto. Io, però, raga, non posso sapere quale è il 4-4. Ora, mi conviene scendere. Eh, mi conviene scendere, raga. Mi conviene scendere. In qualche modo devo togliere l'acqua qua. Così l'ho tolta. Cioè, peggior... Raga, veramente, tra tutti gli stronghold che ci potevano capitare, questo è il peggior. Perché sott'acqua sarà brutto. Però potremmo, tipo, prosciugare l'oceano. Eh, c'ho delle idee interessanti, raga. C'ho delle idee interessanti. Siamo già a 13. Sento degli spider. Dove sono? No, aspetta che metto i sottotitoli, raga. Music and sound subtitles. Dov'è? Dov'è? Sento degli... Ok, di qua. Please. Ti prego, dimmi che sei vicino qua. Silverfish! Pro Silverfish! Ma che là va! Non ci credo! Ma sto Mario! Ma va bene così! A noi va bene così. Allora, gli silverfish vogliamo lasciarlo, questo qua, ragazzi. Ce l'avevamo già detti in precedenza che lo tenevamo. Quindi qui facciamo così, così. E raga, siamo nel land! Woo! In 20 minuti, 25, quello che è! Direi che ci mettiamo un po' di torce qui. Peraltro abbiamo l'henson che potrebbe essere un buon blocco da costruzione, raga, eh. Letteralmente un buon blocco da costruzione, perfetto. Certo che battere il drago con le shaders non è il massimo, questa la possiamo dire come cosa. Ok, allora. Direi che ci facciamo la crafting table di nuovo. Facciamo una piccola base anche qua perché può sempre esserci utile. Ci facciamo una chest. Facciamocene anche di più, chi se ne frega. Il problema è che non mi ricordo, raga, come si fa con i letti. Quindi permettete che se sbaglio... Dovete essere un po' consapevoli che potrei sbagliare, raga. Ok, prendiamoci il cibo. Raga, sembra un buon end in realtà perché questo è già un po' rialzato. Ti dirò, non male. Allora, vediamo. Devo far così. Ok, non sta già scendendo. Ok, non sta scendendo. Bene, dobbiamo andare dalla parte opposta dove aveva lui. E poi in base a quello lo guardiamo. E tecnicamente dobbiamo andare giù dalla parte in cui scende. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Che fa, ma scendiamo? Che fa, ma scendiamo? Ma questo? Questo lo posso spaccarlo, no? Brutta roba. Donna raga, stavo morendo. Vabbè, c'ho l'ender, però è poco male, sinceramente. Ora dovrebbe scendere. Ok, dove va? Verso dove va? Verso di là. Perfetto, raga. Ok, da questa parte qua dobbiamo metterci. Vediamo un po' se sono ancora in grado. No, no, adesso no. Adesso no, enderman. Adesso no, enderman. No, enderman. Adesso no. Enderman. Adesso no. Potrebbe scendere di nuovo, raga. Potrebbe scendere di nuovo. Vediamo un po'. Sì, penso che scenda di nuovo. Ok, quindi controlliamo dove va. Ok, dove va stavolta? Sempre di là. Ok, buono. Buono. Ok. Ora. No, ti prego. No, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. No, 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 dov'è? No, no, raga. Non ci credo, 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 non ci credo. Per un letto no, eh. Siiiiii Va bene Va bene così, raga Con 8 letti L'avevo tirato troppo presto, raga Grandissimi Grandissimi, raga Sì E che cavolo Abbiamo battuto il drago E diciamola questa cosa Abbiamo battuto il drago con i letti Dopo tanti anni Ale, togliamo tutta sta roba, raga Scusate se faccio così Ma solo 41 livelli, raga È perché alcuni si sono bruciati, vero? Peccato, raga, che si siano bruciati. Però possiamo fare finalmente le varie farm di Enderman, eccetera, 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 eccetera. Quindi sono super mega contento. Adesso il nostro amico... Non mi ha dato veramente... Ma così poca esperienza, raga. 15 livelli mi ha dato. Ok, tutto nell'overworld. Però mi hanno dati veramente pochi. Allora, calma tutti. Dai, è stato più semplice del previsto. Insomma. Rompiamolo, vediamo dove si è tippato. Dove si è tippato l'uovo? Allora, deve essere qui nelle vicinanze, raga. Solo che non riesco a capire dove è esattamente il nostro amico incredibile Drago. Mi pare che debba essere a 7 blocchi di altezza massimo e 15... Eccolo qua. Eccolo qua, raga, trovato. A posto. Ora, in teoria, se io prendo una torcia e gliela metto sotto... Fatemi capire se sto dicendo una cavolata o meno. Se io faccio così... Adesso non voglio dire una cavolata, ma penso che funzioni questa cosa. Lui cade e diventa un blocco. Madame Archie has reached the goal of the next generation! Dobbiamo assolutamente farci qualcosa per questo Dragon Egg, ma lo deciderete voi nei commenti. Oggi vi saluto e ci vediamo lunedì con un nuovo video della Vanilla, sempre alle 16.30. Volete che cambiamo orario? Che lo facciamo di mattina? Qualcuno me l'ha chiesta sta cosa. Vediamo. Ciao!